Ma proviamo ad entrare in una casa. Era un giorno importante. Il compleanno di Gigi. La mamma passava l'aspirapolvere per l'ottava volta e questa rispettosa aspirava anche i mobili tappeti. Quando veniva rimessa nello sgabuzzino, sputacchiava polvere dappertutto. Il papà invece cercava gli addobbi per la festa, ma non c'erano da nessuna parte. Dove hai messo gli addobbi? Non li ho toccati. Allora vieni a darmi una mano. Cerca e ricerca, decidono di dare al figlio il regalo senza la festa. Lo portarono in un salotto e la sorpresa fu di tutti. Gli addobbi erano ricomparsi e il salotto era tutto festone.